Il piano ospedaliero così come farà aumentare i viaggi di pazienti pugliesi al nord, ovvero farà schizzare quella che in gergo tecnico viene definita la mobilità passiva. Ne sono convinti gli ortopedici ospedalieri e universitari che si sono riuniti nella Mater Day di Bari per confrontarsi sul da farsi. Ma non intendono subire in silenzio, hanno deciso di redigere entro i prossimi 15 giorni un documento da consegnare all'assessore regionale alla sanità Tommaso Fiore. Abbiamo sottolineato alcuni aspetti migliorativi che potrebbero non implicare grandi spese e risorse economiche e soprattutto tendere a recuperare quei 48 milioni di euro che nel settore dell'ortopedia vanno fuori dalla nostra regione. Come recuperarli? Ci sono diversi mezzi, innanzitutto aumentare gli accessi nelle sale operatorie degli operatori della sanità pubblica, rendere più efficiente il sistema e soprattutto se guardiamo ai risultati, vedere cosa avviene, perché il paziente migra. Si è visto per esempio che nella provincia di Foggia c'è una grandissima migrazione per le artroscopie, il 50% dei soggetti che fanno le artroscopie vanno fuori regione. Bisogna domandarsi perché succede quello e porre un rimedio. Una cosa è chiara, secondo il professor Renato Laforgia, è cioè che i ricoveri fuori regione aumenteranno con un aggravio di costi per le casse regionali. Per la revisione o la sostituzione dell'anca o del ginocchio fuori regione si spendono in media 14.500 euro a paziente. In Puglia si intendono spendere massimo 8.789 euro. Questo significa che gli operatori pugliesi non rientreranno nelle spese. E soprattutto speriamo che la regione, l'assessore, riveda alcune tariffe dei DRG che hanno stabilito con l'ultimo decreto di giunta regionale del 28 dicembre, perché quelli porteranno ad aumentare la migrazione sanitaria.